Domenica 28 è stato il giorno d'inizio della Fiera Agricola della Valceno, nel comune di Varano-Melegari. Ma un piccolo prodromo c'è stato anche nel pomeriggio di sabato 27 aprile grazie al primo raduno off-road Fiera di Varano. Un evento organizzato dal club Tricolore Fuoristrada Parma grazie ad un gancio in paese. Il loro associato Giuseppe Gabelli, campione olimpionico di tiro con l'arco, ora appassionato anche di fuoristrada. L'apertura del raduno nel pomeriggio di sabato grazie ad una pista preparata nei pressi della Montata, un'area del paese posta tra il castello e l'area a fiere. Il momento clue è stato domenica mattina quando alle 8.30 era prevista la partenza dei due percorsi off-road. Un successo, come ci ha detto Gabelli, ci aspettavamo dai 50 ai 60 mezzi e invece ce ne siamo trovati più di 130. Erano 133, per la precisione, gli equipaggi provenienti da molte regioni del nord Italia ma anche dalla Toscana e da altre regioni. Ovviamente non mancavano gli equipaggi del Parmese, da Bardi all'Anghirano e da altri paesi della nostra zona. La passeggiata in Appennino si è snodata per 40 km tra i comuni di Varano, Pellegrino e Solignano. Due percorsi con richieste diverse per poter partecipare. Per il percorso soft bastavano le gomme mud da fango. Per il percorso hard, oltre alle gomme mud, erano richiesti anche blocchi e verricello. Difficoltosi per alcuni equipaggi il percorso hard, ma grazie alle loro capacità, alla solidarietà degli altri partecipanti e all'attrezzatura, non è stato segnalato nessun problema particolare né per i mezzi né per le persone. L'unico problema, un leggero ritardo, né mettere i piedi sotto la tavola per gustare i famosi annuleng. I 133 fuoristradi, infatti, sono partiti all'8.30 e sono tornati attorno alle 14.00. Gli organizzatori ringraziano la Proloco, l'amministrazione comunale e soprattutto i responsabili della Polizia Municipale, Enzo Viola, che ha dato una mano importante nell'organizzazione dell'evento.